Nigel, Nigel, Nigel. No, non so che cosa pretendi da me. Non c'è nulla in questo guardaroba in cui entri una 42, te lo posso garantire. Queste sono tutte taglie di campionario 38-40. Va bene, proviamo questo per te. Un poncio. Ora tu prendi quello che ti do e te lo fai piacere. Vediamo questo dolce per te. Ehm, Scarpe, Jimmy Choo, Manolo Blanick. Fica. Nancy González, la adoro. Ok, Narciso Rodriguez, questo ci piace tanto. Ah sì, potrebbe starti, potrebbe. Ok, ora Chanel, hai un bisogno disperato di Chanel. Tesoro, vogliamo muoverci? Dobbiamo passare alle parti estetiche, Dio solo sa quanto tempo ci metteremo. Ti giuro, non riesco a capire perché Miranda l'abbia assunta. Nemmeno io. L'altro giorno eravamo nel reparto estetica. Ha preso in mano il piegaciglia di Shue Mura e ha detto E questo cos'è? Veramente. Ti giuro, appena l'ho vista ho capito che sarebbe stata un disastro su tutta la linea. Ufficio di Miranda Priestley. No, veramente non può rispondere, ma le lascio un massaggio. Ok. Grazie. Arrivederci. Come hai? Ti sei messa... Gli stivali di Chanel? Sì, proprio quelli. Stai bene? Oh, Dio. Perché? È vero. Piantala, Serena.